Un progetto da 80 milioni di euro per riqualificare 13 trappescaie e briglie in 55 chilometri del tratto fiorentino dell'Arno e realizzare 12 impianti per produrre energia elettrica dall'acqua. Un'operazione che ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica del fiume, preservare la biodiversità e salvaguardare il patrimonio storico delle opere idrauliche. Il progetto è stato presentato dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni e dall'assessore all'ambiente Monia Monni. Iniziative toscane presentando questo progetto ormai dal 2007 è partita questa iniziativa, poi come spesso accade nel nostro Paese, ricorsi contro ricorsi, il Consiglio di Stato, ma a questo punto ci siamo. Proprio stamani iniziano i lavori a una delle 12 pescaie, quella dell'isolotto che peraltro aveva avuto dei danni anche nel momento di maggiore affluenza d'acqua. Sapete che quest'anno il livello di piovosità è stato ad esempio il doppio dell'anno scorso e quindi sarà anche l'occasione per risistemare questa straordinaria occasione per governare il flusso dell'acqua che sono le pescaie. La produzione di energia elettrica stimata si aggira sui 55 gigawattora all'anno, pari a quella necessaria per far fronte al fabbisogno di circa 20.000 famiglie ed equivale ad un risparmio di circa 25.000 tonnellate annue di CO2. Un progetto che mette insieme ovviamente una maggiore sicurezza del territorio, una migliore valorizzazione della biodiversità e ovviamente una migliore qualità del fiume. È un project, come detto, quindi la concessione avrà una durata trentennale rinnovabile per 10 anni. In questo arco di tempo il concessionario ovviamente si farà carico anche della manutenzione e della gestione delle opere sia di produzione dell'energia sia idrauliche e alla fine del periodo di concessione le opere torneranno a far parte del patrimonio regionale e la regione potrà decidere se affidarle a un nuovo concessionario. I lavori, come vedete nelle immagini, sono iniziati alla briglia dell'isolotto a Firenze dopo il crollo di inizio febbraio. Entro aprile partiranno gli altri interventi con una durata prevista di 24 mesi. Le località lungo l'arno interessate sono Incisa, Rignano, Lesieci, Ellera, Compiobbi, Il Girone, Vallina, Rovezzano, Porto di Mezzo a Signa e, a Firenze, la zona di San Nicolò e il Parco delle Cascine.